Ti do il benvenuto alla battaglia. Otto combattenti partecipano, ma uno solo sarà il vincitore. Qui puoi reclutare nuovi servitori per la battaglia. Scegli con cura. Perchè? Assolda pure una di queste reclute. Ora metti al lavoro quella recluta. Perchè? I servitori che porteranno per te avranno bisogno di un comandante capace. Ho delle reclute fresche fresche per te. Spendi con saggezza. Però, insomma, spendi. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. È ora di combattere. I tuoi servitori attaccheranno da soli, da sinistra a destra. Puoi potenziare la locanda per avere accesso a servitori più potenti. Ottimo! Posso far entrare altri servitori più forti ora. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Che denti grandi che ho! Che denti grandi che ho! Non voglio dare un'altra pezza! Non voglio dare un'altra pezza! Non è vero, non è vero! È vero! Non è vero. È vero! possa ottenere una tripla Assoldando quel servitore otterrai una tripla Oh oh, stai facendo carriera Ehi, una tripla Ecco la tua ricompensa Mi piace il tuo modo di pensare E per mangiarti meglio Ti conviene potenziare la locanda Altrimenti i tuoi avversari potrebbero superarti Ora sì che si ragiona Bene, mettiamo dei servitori migliori qui dentro E assicurerò che questi rimangano qui per la prossima volta Coltrimenti i tuoi avversari Grazie a tutti Esattamente ciò che stavi cercando. Assolda pure una di queste reclute. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Vi abbatteremo! Ottima giocata! Chissà quali saranno le conseguenze. Gran bel lavoro! Mantieni la pressione. Non ho paura di nulla! Tranne dei doni... ...i non ho paura di nulla! 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 Ah, è una grande gioia vederti all'opera! ...i non ho paura di nulla! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, così si fa. Sei davvero di grande ispirazione. La battaglia è arrivata e secondo me hai anche buone possibilità di vincerla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.